Sul campo della Torres, bella prova di carattere della Pineto che riscatta il netto K.O. di Terni. Dalla primo minuto Marafini, Germinario e Shakir nel tridente completato da Fabrizio e Bruzzaniti, il migliore insieme con Tonti nella Torres priva di Varela. Inizialmente Scotto e Mastinu partono dalla panchina in attacco Fischnaller e Goglino a supporto di Nanni. Primo tempo senza rischi, tatticamente perfetto il Pineto di Cudini che al trentunesimo sblocca il punteggio con una punizione dalla distanza di Bruzzaniti. Secondo gol stagionale per il 24enne attaccante prestito dal Crotone che nel finale di frazione servito da Shakir minaccia ancora la porta di Zaccagno. In avvio di ripresa Super Tonti, parata straordinaria sul goglino ispirato da Fischnaller. Quindi due cambi, fuori Casini e Nanni, dentro Mastinu e Scotto e proprio il capitano a suonare la carica. Suo il lancio che coglie in preparato Marafini. Fischnaller gli scappa alle spalle e con un preciso lob scavalca Tonti. Uno a uno. Letale il 33enne attaccante di Bolzano. Il Pineto reagisce subito col solito Bruzzaniti che da posizione decentrata sempre su punizione prova a spaventare Zaccagno. E ancora il tentativo sottomisura in mischia di Gambale subentrato a Fabrizi. Nel finale il prevedibile forcing dei Sardi da posizione più che privilegiata. Guiebre non trova la porta. In pieno recupero ancora decisivo Tonti, questa volta su Fischnaller. Dopo quasi nove minuti di recupero il triplice fischio di Di Marco della sezione di Cempino. Torres Pineto finisce uno a uno.